Quei amici sono uguali a te o no? No, ho un'amica che è totalmente al mio contrario. C'è i capelli marroni, la pelle scura, gli occhi già sempre marroni. E anche i maschi, hai gli amici tra i maschi? Sì. Ok, sentiamo lui? Per me... Che ha i migliori amici, sono uguali a te? Non sono uguali a me, però io penso che anche se un bambino non è uguale a te, e comunque ti può essere comunque amico. Perché basta che dimostri che lui ti vuole bene.